Fumata nera per il palazzetto dello sport di Giuliano, la struttura sportiva di Via Pigna non ha trovato alcun affidatario. La gara per l'affidamento in concessione per la durata di 5 anni è infatti andata deserta. A presentarsi 5 ditte, la polisportiva Giuliano, il basket a cerra ASD, l'ASD Basket Casoria, il centro nazionale sportivo Fiamma e l'ASD Memory Giacomo Caracciolo. Ma le prime tre sono state escluse perché la busta esterna dell'offerta presentata non era controfirmata sui bordi di chiusura. L'amministrazione avrebbe infatti proceduto all'aggiudicazione solo in presenza di almeno tre offerte valide. Attualmente il palazzetto è ancora nelle mani della ditta che l'ha realizzato e come potete vedere dalle immagini sembra accessibile a chiunque. Ma entro tre mesi sarà riconsegnato al comune. Per quella data, cioè dicembre 2014, secondo i tecnici del comune, il centro sportivo avrà un affidatario. Questo perché entro il prossimo lunedì dovrebbe essere già pubblicata una nuova gara che prevederà l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Insomma nel 2015 quel grande cuore sportivo con 1500 posti a sedere e troppe volte già vandalizzato potrebbe finalmente iniziare a pulsare.